Il semestre europeo è una grandissima opportunità per l'Italia e noi vogliamo utilizzare tutta la forza del Partito Democratico per cambiare l'Europa. Cambiarla a partire dallo sguardo delle generazioni più giovani, di chi è senza lavoro, di chi ha difficoltà a risolvere il problema della propria vita quotidiana. Basta austerità, più sviluppo, più crescita. Questo è il messaggio per il semestre europeo.